Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Uno dei video più richiesti è Portaci nella tua giornata, Giussi, come io facessi Cioè, chissà che cosa di interessante Però, visto che volete, eccoci qua Vi porto con me nella mia giornata Come prima cosa, mi sono lavata, mi sono vestita Per fortuna mi dava ancora Guardate, vedete? Aspetta Ma effettivamente, cosa ho fatto oggi? Stamattina presto mi è arrivata una colazione E quindi niente, ho mangiato Ho mangiato, io ho mangiato Però è ancora rimasta un po' di cose, tipo cornetto E parigina bonitissima Ora la mangio Ma prima, cosa volevamo dire? Che Martina ha rimasto anche lei tutto il disordine Quindi facciamo un patto Allora, io vado a settimana di là e tu cucino Esatto Vabbè, ci sta Oh, ci sta L'unica cosa che non ho fatto è sistemare il macello Che abbiamo fatto di Martina Per il suo video YouTube Che ve lo lascio qui da qualche parte Così potete andare a vedere il suo primo video Una storia scioccante La storia di Martina è veramente scioccante Perché raccontiamo che rimaniamo bloccate in mezzo al mare Quindi per farvi capire Però non vi dico nulla Andate a vedervi il video Quindi ora sistemiamo tutto il macello Prima Eccomi con la sistemazione dei trucchi E raga vi giuro Io devo mettere tutte le cose al posto loro Perché io già non trovo nulla Poi se non le sistemo Ci metterò otto ore per trovare solo un pennello Allora, questo è il dopo E come potete vedere è tutto sistemato Quindi mamma Per favore guarda Vedi Ecco Raga No, raga Giuro che a casa mia non mangiamo cose non sane No, assolutamente Cioè, ma che cosa Sì, ma una settimana Cioè, un giorno e sei Domenica Eh, sì Ci sta Ci sta Ci sta Allora, raga Cambio look Perché mentre si mangia Cambio look Cioè, devo stare comoda E poi E poi ovviamente Amici Di Maria De Filippi Di Giussi di Pratta Che poi raga Fortuna vuole che oggi Devo andare in spa Ovviamente Non ci vado sempre Purtroppo Però oggi Devo fare questa cosa E quindi niente Vi porto con me E soprattutto però Oltre che a portarmi Nella spa Eccetera Eccetera Dovevo scelgere il costume Quindi il pre E quindi sono andata A cacciare In pieno inverno La mia borsa La mia borsa Di costume Mi fa molto strano Gli occhialini Che bello Mi manca l'estate Però nulla Io opterei Per un qualcosa Di più semplice Tipo sì Quello ci sta Qualcosa di nero Però non so Cosa Rosa Rosa Non lo so Raga Comunque Io mi sono preparata Mi sono preparata Lo zenetto Questa qua Che potete notare E nulla Ora andiamo E poi Vi aggiorno Qui Eravamo appena Arrivati in spa Questi sono Gli spogliatoi Un po' inquietanti Questo corridoio Però È l'unico pezzo Che ho potuto Registrare All'interno Allora Comunque Siamo dentro Alla spa Ovviamente Dove fanno il massaggio Non fanno riprendere Però nulla Ora mi sono Cambiata Quindi niente Se vedete Qua un po' Bagnato In realtà Perché mi sono appena Fittata la doccia Mi sono rivestita E nulla Ora Ci abbiamo Massaggio Top Quindi sono molto Soddisfatta Anche se è durato Solo 30 minuti Cioè potremmo Trovare Oppure Però vabbè Ci accontentiamo Che poi È un caldo assurdo Ve lo giuro Sì Invece In questo armadietto Potevi mettere Tutte le tue cose E con un bracciale Lo potevi aprire E chiudere Infatti qua Sono io Con dove c'era Il mio giubbino Ora sto prendendo Le scarpe Perché se non Mi prendo Le scarpe Non mi posso andare Questa era Tutta la strada Del ritorno Devo dire Da bruttissimo tempo Stava quasi Per piovere Mi sono portata Martina Non sto bene Con la testa Guarda L'ho presa Da giù Grazie Che cosa ti faccio La skin care Con questo Grazie Però Erano vicini E quindi L'ho presa Grazie Domani Li metto Nella spremuta Di limone Grazie Però Molto gentile E' il tesoro Comunque Raga Mi sono dimenticata Di riprendere Ma in realtà Sono andata a mangiare La pizza Però niente Non l'ha Niente di chi C'era Se non so Era una pizza Ok Quindi Oddio Non mi si è diventata Nulla Però sono tornata a casa E ho visto ancora Martina Registrare i video E farsi E farsi Ovviamente Skin care Sì Non sta bene Con la La pizza Sì Però mi sono resa Conta di una cosa Mi sta venendo L'allergia Non ho capito Guarda qua Qua E qua Che c'è Comunque Raga In ogni caso Ora devo disfare Lo zetto Che ho Cioè Che mi sono portata In spa Perché se no Lo faccio ora Non lo farò mai più E nel frattempo Così vi faccio vedere Anche cosa ho portato Perché quando Appunto dovevo andare in spa Cioè Non avevo tempo Perché come Ho sempre fatto tardi Sempre E quindi Ora vi faccio vedere Vabbè Innanzitutto Il borsigliono Dove ci sono 550.000 Medicine Casomai Mi viene qualcosa Oh Guarda qua Poi ci dobbiamo Portare L'asciugamano Io ho portato Questa qui Ovviamente Anche le ciabattine Che sono rigorosamente Rosa Poi Abbiamo Il cappatoio Perché se no Non può uscire Con il costume E quindi Infatti Arriviamo al costume Che alla fine Ho scelto Questo qui Alla fine Abbiamo Ho scelto Questo qui Rosa Di Dezenis Che raga È pazzesco Cioè Veramente Questo è il mio Costume preferito Lo adoro Questo è il mio Costume preferito Quindi ho messo Questo E poi Che ci sta più Poi vabbè Mi sono portata Il bagno schiuma Perché ovviamente Ci siamo dovuti Lavare Mi subito Ti mettevano Tutto l'olio Cose Robbe Crema Diodorante E ho perso Pure il tappo E bottina d'acqua Stop È notte fonda Ma in realtà Non così fonda Cioè Nel senso Sono tipo le undici e mezza Solo che c'è un problema Cioè Si accende la luce Non si vede nulla Perché Boh La luce È strana Ok Boh Lo so Non ho connetto più Vabbè Comunque raga Questo per dirvi Che ora mi faccio Skincare E poi Vado a letto E mi vorrei vedere Una puntata di nuova scena Che tipo Su Netflix E parla tipo di Rapper Tipo stesse cose qua E niente Molto molto bello Dunque tutto ciò Per dirvi Che mi faccio Skincare Ora le faccio vedere Come con la luce Accesa Si vede nulla Cioè si vede Tipo strano Mi vedo Tipo Marrone Utilizzare uno Di questi due Struccanti Più Questo qui E successivamente Con Questi qui Che sono tipo Per asciugarmi Il viso Alla fine Quindi alla fine Uso queste E poi Qua ci vorrebbe Martina Io non so Ci faremo Mi do Io ve lo giuro Ehm Ehm Finalmente Ho fatto Skincare Ho tolto Tutto Ehm Ora vado a dormire Vabbè più che altro Andrò a dormire Io spero di vedermi Una puntata di qualcosa Su Netflix Però ora vi do un attimo Ehm Nulla Io spero che questa giornata Con me vi sia piaciuta Ehm Vi siete un po' divertiti Se state un po' con me E spero di avervi fatto Un po' di compagnia Noi in ogni caso Ci vediamo nel prossimo video Quindi mettete like Commentate Iscrivetevi al canale E soprattutto Attivate la campanella E mi raccomando Fatemi sapere Che video vorreste Qui sotto nei commenti Vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Mua Ciao